Tensione nel carcere di Fornia a Salerno. Nella tarda serata di ieri intorno alle 23 un detenuto ristretto nella sezione transito senza un'apparente motivazione ha piccato il fuoco alla propria cella. La denuncia del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe e del segretario regionale della campagna Tiziana Guacci. In breve tempo le fiamme e il fumo si sono dilagati in tutta la sezione e solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria in servizio si è provveduto a spegnere l'incendio e riportare l'ordine e la sicurezza all'interno della sezione. Il Sappe chiede provvedimenti urgenti. Serve un direttore titolare. In una casa circondariale così complessa dove si registra un grave sovraffollamento ed il personale di Polizia Penitenziaria è sottodimensionato. L'amministrazione non può pensare di poter gestire l'istituto senza un direttore titolare. Serve subito una nomina. La sindacalista esprime solidarietà, vicinanza e apprezzamento ai poliziotti penitenziari del reparto di Forni e ricorda che il Sappe denuncia da tempo che bisogna introdurre riforme efficaci per semperare le costanti e crescente tensioni nelle carceri, prevedendo ad esempio l'espulsione dei detenuti stranieri e la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari, dove sistemare i detenuti con problemi psichiatrici sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinario.